un saluto a tutti voi da franza dal canale di the sun astrology in questo intermezzo estivo vi porto l'approfondimento del tema di nascita di carl gustav jung quindi un'occasione per riflettere sulla sua genitura visto che ci troviamo in una giornata dove si celebra appunto il suo genitriaco carl gustav jung è nato il 26 luglio questa è un'occasione anche per analizzare insomma la genitura in questo caso di jung e riflettere su alcune disposizioni in particolare il metodo astrologico ci permetterebbe ovviamente di analizzare una genitura in modo molto ampio quindi potremmo stare qui moltissime ore per parlare della natività di jung nello specifico però vi porto degli approfondimenti una sintesi su alcune questioni specifiche di jung rispetto alle opere in particolare sulle opere sulle azioni quindi sulle inclinazioni diciamo professionali ma anche sulla questione dell'animo e della mente di jung in particolare poi rifletteremo sulla sul calcolo del signore della genitura di jung dove vi porterò alcune affermazioni alcune considerazioni di william lilly che ci fanno riflettere anche sugli approcci interpretativi e di calcolo anche del signore della genitura nel caso specifico vi porto appunto alcune considerazioni molto interessanti di william lilly bene quindi partiamo con l'approfondimento partendo con il dire che oggi ricorre appunto la nascita di carl gustavi jung che vi ricordo è nato il 26 luglio 1875 è nato alle ore 19 e 24 in una città svizzera deve essere detta una cosa sull'orario di nascita di carl gustavi jung perché tra virgolette è un orario non certo in realtà dobbiamo ragionare sull'orario che intanto abbiamo che le 19 24 questo orario viene dato dalla figlia di jung la quale dice che è un orario ricostruito secondo le narrazioni della sua famiglia quindi secondo i racconti della sua famiglia attorno al parto alla nascita del jung bambino del jung fanciullo che cosa si dice di questo orario intanto questo orario è stato calcolato perché si dice che jung è nato è venuto alla vita in un giorno appunto del di luglio il 26 luglio nel momento in cui il sole stava tramontando l'altra cosa che viene detta è che nella stanza di jung quando appunto jung stava venendo alla luce dal ventre di sua madre c'erano gli ultimi raggi del sole quindi stiamo parlando del tramonto del sole quindi intanto la nascita di jung è crepuscolare è una nascita crepuscolare tuttavia diurna perché ci viene detto che nell'orario della nascita ancora c'erano i raggi del sole che illuminavano la stanza diciamo del parto no del parto di jung quindi questo è una è un orario che almeno io do per buono è un orario che ovviamente non proviene da un certificato di nascita o da un estratto di nascita ma proviene da una ricostruzione familiare secondo le la cronaca di quel giorno cosa possiamo dire dal punto di vista astrologico io partirei da alcune considerazioni da vedere su quest'altro grafico un po più chiaro rimpicciolisco la mia immagine da alcune considerazioni che provengono da diversi autori antichi che esordiscono dicendo che i pianeti in sesta casa sono buoni sono efficaci per la professione medica questo per esempio lo dice il cardano ma anche molti altri in alcuni aforismi astrologici ci dice che ci dicono questi autori che i pianeti in sesta hanno significato nel caso in cui un significato diciamo positivo nel caso in cui il nativo si orienterà verso le arti diciamo mediche sanitarie proprio il cardano in un aforisma dice il che i pianeti in sesta fanno il buon medico questa è una cosa che ci porta a riflettere anche sulle considerazioni che diamo sulle dodici case la sesta casa tradizionalmente viene definita misero declivio casa della malattia è una casa dove i pianeti nella loro posizione accidentale perdono efficacia perdono una forza una loro forza quindi vengono in qualche modo depotenziati usiamo questo termine un po debilitati anche se non è il termine corretto in qualche modo però i pianeti in sesta sono nel misero declivio però dipende dalla questione che stiamo analizzando quindi un po come per la astrologia oraria anche nel tema di nascita abbiamo diverse questioni il temperamento i figli il matrimonio le opere il lavoro quindi le inclinazioni psicologiche dell'animo della mente le inclinazioni sessuali ogni argomento deve essere affrontato con un metodo c'è un metodo di approccio ed ogni metodo ha delle sue specificità e delle variabili quindi vedremo che le posizioni dei pianeti in sesta di jung hanno un doppio un doppio risvolto hanno un significato efficace e interessante per la professione di jung che è stato un medico e hanno però anche un significato in questo caso tra virgolette negativo ma vedremo che poi non è stata poi una cosa così negativa però ci sono alcuni aspetti dell'animo di jung che diciamo sono aspetti di inquietudine che in qualche modo sono significati proprio dalla posizione di mercurio e anche di venere in sesta casa come vedremo tra non molto intanto dobbiamo dire che la sesta casa ha significato anche sulle opere questo ciò dicono tutti gli autori antichi che la sesta casa è una casa configurata al medio cielo è una casa intrigono al medio cielo quindi la sesta casa ma anche altre case hanno significato hanno un potenziale significato sulla questione diciamo così lavorativa più che su questione lavorativa gli autori antichi la questione professionale la chiamavano inclinazione delle opere delle azioni perché nel capitolo delle opere e delle azioni rientra sì la propensione lavorativa ma rientrano anche le qualità delle opere cioè qual è la natura delle nostre opere qual è la loro natura quindi studiando questa natura possiamo poi dedurre anche delle propensioni delle predisposizioni dal punto di vista diciamo della professione no allora intanto che cosa possiamo dire che i medici e sono significati da marte intanto quindi un significatore naturale è marte non solo anche mercurio però partiamo da marte e notiamo che per esempio marte è il governatore della decima casa è occidentale al sole inoltre è con mercurio in una figura che si chiama il recepcio cioè una ricezione che è negativa tra i due pianeti che non sono in aspetto tra loro e che ha però significato questa il recepcio sulle modalità delle opere perché perché vediamo che marte è in sagittario quindi è nel detrimento di mercurio e notiamo che mercurio nella caduta di marte mercurio e veniamo anche a mercurio vediamo che è orientale al sole un attimo che insieme ed è libero anche dai raggi del sole stavo vedendo se mi se veniva data dal software prometuo prometeus il fatto che mercurio fosse in libero dai raggi del sole addirittura mercurio è da non sotto da non sottovalutare perché perché questo mercurio è in levata eliaca proprio nel giorno della nascita di jung o meglio la levata esattamente secondo almeno il calcolo di prometeus avviene il 25 luglio quindi siamo proprio in una fase eliaca importante di mercurio cioè in levata eliaca vedremo che i pianeti in levata eliaca hanno molta importanza nella definizione delle opere mercurio inoltre è in relazione con la decima casa quindi ha un aspetto con il grado del medio cielo nel mondo è in aspetto quindi al medio cielo allora mercurio e marte in grande sintesi concorrono nel definire le azioni del nativo per esempio per esempio tolomeo dice che mercurio e marte quindi la combinazione di mercurio marte fanno tra varie cose fanno diciamo molti tipi di professioni tra queste professioni appaiono anche i medici e i chirurghi non sottovalutiamo però mercurio che è in levata eliaca mercurio poi perfeziona la congiunzione a venere vedete mercurio è vicino a venere e vi è poi una mutua ricezione importante anche tra luna e venere che vedremo più avanti che è anche significato sull'animo però anche l'animo deve essere messo in gioco nella definizione delle opere perché le opere e le azioni sono date anche da delle inclinazioni del nostro essere del nostro animo della nostra mente quindi abbiamo quello che voglio dire delle figure potenti rispetto intanto alle azioni del nativo e vi ho parlato di questa mutua ricezione luna venere perché perché la luna muove l'animo e quindi la luna ha significato non solo sull'animo ma anche sulla natura delle azioni è vero che nel capitolo delle delle opere e delle azioni noi prendiamo in considerazione una valutazione in particolare tra di venere mercurio marte però è anche vero che nel capitolo della luna ci viene detto da diversi autori ora mi viene in mente il pontano che gli aspetti anche che la luna forma le mutue ricezioni della luna sono molto importanti sulla natura dell'animo perché in qualche modo è quella natura che fa muovere anche le azioni quindi diciamo le varie strutture dell'essere di ognuno di noi non è che lavorano in modo in in modo come dire asettico cioè ogni argomento lavora per se stesso tutti i diversi argomenti delle inclinazioni dell'animo delle inclinazioni dell'individuo l'animo la mente le opere sono tutte collegate tra loro perché hanno la finalità di definire poi le nostre inclinazioni quindi dicevo che tolomeo dice che mercurio marte fanno i medici e i chirurghi non sottovalutiamo mercurio che è in levata eliaca mercurio perfezione appunto la congiunzione a venere vi è poi questa interessante mutua ricezione che riprenderemo più avanti di luna venere quindi abbiamo queste figure potenti che hanno anche significato sulle azioni del nativo ma anche sulle questioni dell'animo e della mente allora la questione delle opere secondo me almeno per il mio approccio è abbastanza chiaro cioè il nativo ha predisposizione per le azioni connesse ai significati di marte e mercurio inoltre l'irrecepzio che abbiamo questa particolare ricezione che abbiamo di mercurio marte negativa ha anche questo significato sulle questioni delle opere ho trovato infatti alcuni aforismi che ci dicono che quando le mutue ricezioni mercurio marte sono diciamo negative e questi pianeti hanno significato sulle opere può significare anche l'incapacità del nativo di adattarsi alle regole comuni ovvero l'irricevibilità di adattarsi a un costume operativo comune predispone quindi diciamo per un linguaggio che possiamo comprendere oggi a tutte quelle azioni che sono o in comprese dagli altri oppure in controcorrente o incontro o in contraddizione con un pensiero dominante e comune tuttavia la proficuità delle opere è data da mercurio che si unisce alla buona stella di venere anche se è una nascita diurna comunque è una nascita crepuscolare e quindi rimane comunque un benefico che in sessa casa per le questioni delle opere questa congiunzione mercurio venere ha molto significato sulle capacità professionali del nativo che per giunta ha scelto un indirizzo medico un indirizzo sanitario jung è un medico cioè è uno psichiatra è stato uno psichiatra autore o padre della psicanalisi ma è un medico cioè ha una laurea ha conseguito una laurea in medicina jung è stato controcorrente nella sua opera medica cioè nelle sue azioni professionali in ambito medico è stato diciamo un ricercatore un medico controcorrente assolutamente sì jung è stato discepolo intanto di freud inizialmente ma questo legame con freud è andato in breve tempo verso un conflitto importante e quindi jung se vogliamo anche freud è jung è diventato un rivale un competitore diciamo di freud perché freud rappresentava un certo tipo di idea di psicanalisi di psiche c'è un certo tipo di idea medica di idea medica di idea medica rispetto alle questioni diciamo dell'animo umano della psiche umana no jung è stato in contrapposizione un rivale anche quindi di jung e infatti jung è stato promotore di una nuova idea di psicologia e fautore di quella che oggi chiamiamo psicanalisi jungiana quindi vediamo che l'irrecepzio di mercurio marte può in questo caso rappresentarci anche il fatto che la natura delle opere di jung è diciamo è una natura in controcorrente in contraddizione in criticità con un pensiero comune o con una idea comune su quell'ambito medico che tratta jung inoltre marte vi segnalo che è un pianeta lento di moto però è diretto ed è libero dei raggi del sole ma è occidentale ora l'occidentalità di marte in questa nascita è estremamente letteraria cioè qui ripeto io vi porto le citazioni degli autori proprio per dimostrarvi che la letteratura tradizionale è ricca di indicazioni specifiche non generali ci sono indicazioni specifiche che ci fanno capire che queste indicazioni ovviamente devono essere poi interpretate messe insomma nell'insieme della nascita che stiamo analizzando considerando tante variabili però a volte c'è proprio una puntualità estrema no per esempio l'occidentalità di marte come nella nascita di jung e marte è occidentale significa per le questioni delle opere una posizione mediocre nell'esercito quando è orientale una posizione onorevole nell'esercito tipica di chi quando marte orientale di chi conduce battaglie nonché per chi conduce il comando degli eserciti allora questa analogia e altre cose viene da chi da albiruni intanto che cosa vuole intendere albiruni questo autore antico che marte orientale è più adatto nelle questioni delle opere in particolari per esempio per le azioni belligeranti quindi quando marte è orientale è per esempio ottimo per coloro che svolgono lavori nell'esercito nell'attività di controllo che ne so oggi potremmo dire che per gli ispettori per per chi insomma lavora in quello che possiamo legare proprio alla natura guerriera diciamo in questo modo belli bellicosa di marte mentre giustamente albiruni dice marte occidentale non è efficace per la roba diciamo di esercito per la roba militare ma diventa efficace per i cuochi per esempio per i macellai perché marte è anche significatore dei cuochi e dei macellai e diventa efficace anche per i medici e anche per coloro che usano quindi strumenti di taglio come il medico che usa i bisturi quindi in un certo senso le indicazioni che ci sta dando albiruni sulla orientalità di marte o sulla occidentalità di marte rispetto al sole è un'indicazione estremamente specifica sulle questioni delle opere quindi stiamo parlando delle predisposizioni delle opere no delle azioni del nativo quindi questo marte occidentale non è in realtà debole è efficace se la natura delle opere del nativo sono quelle inclinate verso la medicina o verso la chirurgia in questo caso siccome jung è stato un medico questo marte è efficace per l'attività medica proprio perché è occidentale quindi questo è importante da mettere in luce quindi appunto scrivo quindi i miei appunti quindi l'occidentalità di marte ci sta tutta nella natività di jung perché va proprio a identificare la forza e la determinazione di marte del marte di jung che è una determinazione però legata agli ambienti medici e non agli ambienti militari quindi qui abbiamo visto intanto che la questione delle opere del nativo sono legate sicuramente a marte mercurio intanto perché marte governa la decima casa e poi anche perché mercurio è un pianeta orientale al sole è in levata eliaca e ci viene detto che i pianeti in levata eliaca spesso hanno significato sulle opere quindi diciamo mercurio marte concorrono insieme ad avere dei significati sulle opere abbiamo visto come tolomeo dica specificatamente per marte mercurio questa queste nature combinate hanno significato anche sui medici ma parliamo anche della onorabilità di jung allora l'onorabilità del nativo è data dalla angolarità nel caso della nascita di jung dell'uminare del tempo cioè il sole quindi il sole è angolare tuttavia perché in proprio congiunto alla casa 7 inoltre governa la casa 7 perché la settima è proprio in leone il sole è in domicilio tuttavia l'onorabilità deve essere confermata da altre testimonianze una delle più importanti ce ne sono varie e una delle più importanti è anche il ruolo delle stelle fisse specialmente di prima e seconda magnitudine in particolare quindi le luci molto luminose posizionate in un certo modo concorrono all'onorabilità del nativo però dobbiamo avere più testimonianze come al solito questa è la pappardella cioè le regole alla fine nel metodo astrologico sono quelle bisogna esclusivamente adattarle poi per ogni metodo quindi qui una prima testimonianza di onorabilità ce l'abbiamo che quella del sole congiunto alla settima casa e dobbiamo cercarne altre allora per l'onorabilità dobbiamo calcolare il signore anche della genitura perché questo sempre diversi autori tra cui in questo caso vicino 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 willian lilly ci dicono che per esempio non solo lilly ranzovius lo dice questo anche ci dicono cosa che l'onorabilità è data intanto dalla angularità dei luminari o dei loro dispositori oppure dalla posizione succedente dei dei luminari del tempo di illuminare del tempo cioè il luminare del tempo deve essere in parole semplice in un luogo operoso e deve essere in qualche dignità ok qui ce l'abbiamo sole angolare casa 7 sole in domicilio abbiamo una grande dignità essenziale una posizione in settima casa che è angolare anche se la settima casa il sole in settima ha le sue insidie ora qui non ci interessa ci interessa l'angolarità oltre a questo ci dicono questi autori servono anche altre testimonianze per esempio aspetti tra il sole tra illuminare anzi del tempo in questo caso il sole e il governatore per esempio dell'ascendente oppure il suo dispositore aspetti tra illuminare del tempo e il signore della genitura aspetti tra illuminare del tempo e la decima casa e inoltre la posizione delle stelle fisse una stella fissa sul luminare del tempo congiunta sul luminare in questo caso al sole oppure una stella fissa molto luminosa congiunta al che ne so al signore della genitura ad un pianeta che è importante per la natività in questo caso come vi ho detto il sole è angolare il sole fa anche una aspetto al medio cielo il sole è in una sua essenzialità e inoltre riscontriamo anche una questione sulla sulla posizione intanto del signore della genitura sul governatore dell'ascendente che è saturno in prima casa anche se il retrogrado ci torniamo e però mettiamo anche in rilievo in questo caso il signore della genitura ecco viene la questione del signore della genitura perché perché l'onorabilità dobbiamo calcolarla possiamo calcolarla anche sulle qualità del signore della genitura proprio in questa occasione vi riporto alcune indicazioni di william lilli che vi leggo in questo breve passaggio che proviene che prendo dal testo di patrizia nava astrologia cristiana libro terzo di william lilli un metodo facile per giudicare le natività introduzione traduzione commento di patrizia nava edito da agora ok c'è un passaggio ve lo leggo ovviamente una citazione breve poi se volete vi comprate il libro e c'è tutto il metodo spiegato da lilli che è fantastico dice proprio nel capitolo del signore della genitura vi leggo un breve verso io sono convinto dice lilli che il pianeta con più dignità essenziale e accidentale nella figura quello nella posizione migliore e più elevato nel grafico attenzione a quello che dice più elevato nel grafico debba essere signore della genitura sono sicuro che tutte le azioni azioni del nativo in misura maggiore o minore condividono la natura di quel pianeta e che la condizione del nativo il suo aspetto il suo temperamento i suoi modi siano regolati in buona parte dalle qualità attribuite a quel pianeta e poi continua con altre considerazioni che cosa ci sta dicendo william lilli in questo capitolo legato al signore della genitura allora lilli non dice di rivolgerci al metodo di benezza non lo specifica lui che metodo usa che è l'approccio quello del calcolo del signore della genitura di benezza più gettonato anche in questi tempi il più gettonato si usa solo quello che ormai possiamo apprendere diciamo semplicemente anche su google calcolo del signore della genitura e benezza abbiamo di 10.000 approfondimenti di libero accesso che ci permettono di studiare il metodo in autonomia lilli va oltre però dice che il signore della genitura è quel pianeta che ha il più alto numero di dignità essenziali e accidentali questo è un principio alla base sicuramente del metodo di benezza che tuttavia come metodo quello di benezza non tiene in considerazione molte variabili di accidentalità in particolare con il metodo di benezza non posso per esempio valutare dare dei punteggi su delle variabilità accidentali cioè se tengo in considerazione il metodo puro di benezza per esempio non posso valutare il fatto di avere un pianeta retrogrado o un pianeta in moto diretto un pianeta visibile un pianeta invisibile un pianeta lento di moto veloce di moto un pianeta quindi libero dai raggi sotto i raggi combusto cioè ci sono alcune condizioni diciamo alcune disposizioni accidentali degli astri che devono invece essere valutate nel signore della genitura questo perché nella letteratura legata al signore della genitura ci viene detto da molti autori anche che il pianeta della genitura il signore della genitura ha significato praticamente su tutto avere quindi un buon metodo di calcolo che tiene conto di molte variabili che ci porta a calcolare il signore della genitura e con una certa razio considerando più questioni è un grande passo in avanti nello studio dei temi di nascita se io arrivo ad un metodo che con grande ponderazione mi dà il pianeta della natività quel pianeta avrà come dice lilli significato su tutto ogni cosa avrà una connessione a quel pianeta più avanti nella descrizione di lilli giustamente dice la condivido che non è detto che il pianeta della genitura sia uno che dobbiamo rintracciarlo tra i cinque pianeti erranti e basta spesso dice lilli che il signore della genitura si ha tra due pianeti ne possiamo avere due possiamo calcolare il signore della genitura e abbiamo che ne so un pianeta x questo pianeta x se ha delle mutue ricezioni degli aspetti o se c'è un altro pianeta che comunque ottiene dei punteggi elevati o comunque ha delle grandi qualità di accidentalità di essenzialità che non vengono però calcolate che non vengono percepite dal metodo che stiamo usando del signore della genitura dobbiamo mettere in coin in concerto anche quel pianeta qual è il problema del metodo di benezza quello che ho riflettuto io negli ultimi tempi che intanto il calcolo di benezza si basa su i cinque punti vitali cioè su cinque punti vitali del tema di nascita ed è giusto come principio cioè mi calcolo il pianeta che ha più diritto sui cinque punti vitali di un tema mi calcolo poi la forza dei pianeti nelle loro case ma mi fermo lì il metodo puro di benezza è questo oggi è stata aggiunto da alcune scuole di pensiero anche dei punteggi della fase eliaca sì ma è poca roba cioè non viene considerato tutto il resto tutte le variabili che nella astrologia medievale rinascimentale vengono presi in considerazione lì lì ma anche tanti altri autori danno dei punteggi negativi o positivi in base se un pianeta è retrogrado diretto se orientale occidentale libero dai raggi sotto i raggi combusto non combusto kazimi unito con una stella con una latitudine di un modo o un altro con la vessazione dei malefici con l'assediamento oppure con il supporto delle benefiche stelle tutti i punteggi che vengono dati che è la procedura che viene usata dagli autori antichi cioè si arriva a determinare certe cose con dei computi purtroppo bisogna fare dei calcoli ok inoltre la cosa interessante di william lilly è che cita il concetto di altezza del pianeta l'ho incontrato anche in gadbury e stranamente anche in ranzovius di cui so per certo che ranzovius era una fonte consultata da gadbury non so se william lilly consultasse anche i testi di ranzovius però abbiamo questa testimonianza nell'epoca di william lilly dove il concetto di altezza del pianeta viene molto preso in considerazione nel calco dei signori della genitura che è una cosa logica cioè lilly dice inoltre il pianeta più elevato cioè il pianeta più alto proprio più alto e questo è un dato astronomico per sapere se un pianeta è alto dobbiamo avere la data di nascita l'orario di nascita il luogo di nascita quindi dobbiamo avere una conoscenza della sfera della del grafico di nascita nel luogo di nascita in cui è nata la persona per calcolare l'altezza dei pianeti quindi tiene in considerazione anche il parametro dell'altezza lo stesso william lilly e molti altri tengono in considerazione anche i punteggi per altre variabili il metodo di benezza considera esclusivamente il punteggio per esempio nelle case il punteggio del pianeta del dell'ora del pianeta del giorno ma non va altro quindi ci sono diciamo dei limiti nel metodo di benezza che può però essere preso in considerazione integrandolo ad altri metodi quindi che cosa ho fatto semplicemente ho calcolato il signore della genitura secondo il metodo di benezza puro togliendo anche i punteggi delle levate eliache che sono attribuzioni che hanno dato delle scuole di astrologia di oggi ma il metodo originale è presente lo abbiamo trascritto dal latino in diecimila altre lingue non prevede punteggi per le levate eliache quindi ho usato il monte il metodo puro di benezza ed è risultato saturno ok quindi poi ho valorizzato però anche le indicazioni di william lilly quindi ho detto qual è il pianeta più alto della genitura è giove quindi giove come vedete il pianeta più alto questo pianeta mi sono detto a qualche dignità accidentale ed essenziale allora vediamo che giove è intanto nella sua treplicità e nel suo volto ora i volti non erano utilizzati da tolomeo ma con tutto il rispetto chi se ne frega perché dopo tolomeo abbiamo millenni di letteratura dove usano invece i volti quindi io uso anche il volto nella definizione delle dignità essenziali abbiamo delle interessanti mutue ricezioni abbiamo un giove in aiz quindi un giove che è nella sua fazione e rispetta tutte le condizioni della teoria della fazione abbiamo un giove che è di moto diretto un pianeta che è veloce libero dai raggi del sole congiunto entro i cinque gradi indicati da william lilly a spica che william lì dice il pianeta unito a spica ha una acquisisce grande potenza e valore di forza di ac di accidentalità è ok è diciamo occidentale però comunque abbiamo varie abbiamo vari diciamo varia abbiamo vari attributi di essenzialità di accidentalità e abbiamo l'altezza cioè giove è il pianeta più alto è il pianeta più alto della genitura vedete che che eccolo qua giove mi ingrandisco la tabella della altezza giove a più 26 gradi marte l'altro pianeta che più alto è più 11 quindi il pianeta più alto è giove ok quindi giove è molto alto e poi mi sono detto giove saturno hanno qualche aspetto perché comunque se uso il metodo di ibenezra è saturno che mi viene fuori come signore della genitura guardiamo saturno anche saturno è ovviamente nel suo domicilio nella sua triplicità ha delle mutue ricezioni con marte è però retrogrado ok questa è una condizione che pesi che per il pianeta della genitura non è tanto favorevole per esempio bonatti vi cito un altro autore sul capitolo del signore della genitura dice utilizziamo che ne so un metodo e lui propone anche un suo metodo che è anche diverso quello che si definisce al mute bit è un metodo molto complesso quello che usa bonatti però che dice una volta che otteniamo dice bonatti i punteggi non è che basta dire il pianeta più che ottiene il punteggio più alto è quello dobbiamo però fare una valutazione poi personale e per esempio bonatti dice di preferire comunque pianeti che siano di moto diretto visibile liberi dai raggi del sole di moto veloce cioè di preferire comunque quel pianeta che ha il più alto numero di accidentalità che può essere il metodo non ce lo metta in luce perché può essere che per esempio nel metodo di benezza non viene considerato il fatto che saturno è retrogrado quindi non mi viene detto dal metodo di benezza di togliere un punteggio al pianeta retrogrado che lo renderebbe meno efficace per la natura per le qualità per l'idificazione del signore della genitura che deve essere in assoluto il pianeta messo in modo migliore poi se tutte le variabili ci portano comunque ad un pianeta retrogrado o invisibile quella condizione avrà insomma è come un significato negativo sulla genitura in questo caso però notiamo anche che c'è un aspetto di trigono anche se nello zodiaco ma per esempio william nilly anche per i temi di nascita usava reggio montano quindi teneva molto in considerazione gli aspetti zodiacali vediamo che vi è un trigono saturno giove quindi in un certo senso il pianeta più alto comunica comunque con il pianeta della genitura quindi giove può avere significato anche sul signore della genitura allora che cosa possiamo quindi dire su questa determinazione questo ragionamento articolato ve l'ho fatto per farvi capire che non basta solamente il metodo e il calcolo dobbiamo aprire la nostra mente alle alla elaborazione della natività e questo caso ci sta tutta la diciamo l'attribuzione di due signori della genitura e lilly dice che ci possono essere più pianeti che significano che hanno significato sul signore della genitura cioè signore della genitura possono essere anche due pianeti allora in questo caso abbiamo saturno retrogrado in prima casa comunque un saturno che governa l'ascendente ci dà un certo cinismo ci dà una certa intellettualità un certo rigore ma anche poiché saturno è retrogrado comunque non è malefico perché la nascita la dobbiamo considerare diurna ci dà comunque una un atteggiamento diciamo un temperamento un modo di essere del nativo anche recalcitrante cioè un po come dire un nativo che non è a suo agio nei confronti delle autorità di ciò che possiamo chiamare autorità perché saturno rappresenta la legge giove colui che la applica cioè il maggio il magistrato in un certo senso quindi saturno rappresenta i perimetri appunto delle tradizioni i perimetri delle regole insomma ci indica tutto ciò che è limite ok invalicabile essendo saturno comunque dignificato poiché in domicilio e governatore dell'ascendente conferisce rigore al nativo una lucidità e una razionalità ma è un saturno retrogrado quindi ci dà informazioni o cia integra ci dà delle informazioni ulteriori sul fatto che il nativo risulterà recalcitrante nei confronti delle regole non amerà molto come dire essere comandato o dover aderire alle tradizioni comuni e questa cosa rievoca anche molto l'irrecepzio che abbiamo visto tra mercurio e marte per le questioni delle opere tuttavia giove è un pianeta molto alto ha delle grandi dignità tra cui la congiunzione a spica andiamola a vedere questa congiunzione a spica ecco qua e quindi giove anche ha significato sul signore della geni della genitura guardate che bella luce questo giove vicino a spica allora la luce di spica è una luce degli intellettuali di chi compierà cose importanti nelle opere però questa luce deve essere configurata con un pianeta che ha significato sulla natività questo giove è congiunto a spica comunica con il signore della genitura è il pianeta più alto i pianeti più alti dice lilly ma anche ranzovius hanno significato sulla natività perché rappresentano possono rappresentare anche se mettiamo non emerge come pianeta della genitura il pianeta più alto però rappresenta l'aspirazione più alta del nativo come arriverà o se sarà in grado di raggiungere aspettative elevate quando giove è in un tema diurno in questo caso è in aiz congiunto a spica rappresenta anche l'espansione la visione cosmopolita la capacità di indagine anche l'animo magnanimo anche l'animo benevolo e per un medico perché questa è la professione di di jung avere un giove congiunto a spica dove mercurio e venere sono in sesta casa nella esaltazione di giove significa anche una capacità di curare il paziente perché venere giove hanno anche significato sulle cure sulle terapie quindi vedete che tutto si ricollega c'è una connessione cioè se andiamo a interpretare proprio nelle minuziosità di questo grafico troviamo incredibili disposizione disposizioni quindi l'onorabilità comunque c'è perché giove è congiunto a spica e comunica con il signore della genitura quindi giove unita ad una stella molto luminosa che comunica con il signore della genitura secondo il metodo di benedra e giove può essere diciamo un secondo signore della genitura se lo vediamo come pianeta più alto cioè concorre diciamo così a definire alcune sfumature sulla questione del signore della genitura il sole in settima casa quindi l'onorabilità c'è però come vi ho detto prima il sole in settima è anche insidioso specialmente quando la nascita è crepuscolare perché comunque rappresenta la anche la competizione la competitività l'orgoglio è comunque un destino in cui il nativo potrebbe essere portato diciamo così alle guerre con gli altri al conflitto con gli altri jung proprio nelle questioni anche delle opere delle questioni mediche nelle sue ricerche ha avuto molti conflitti con la comunità medica del suo tempo specialmente con freud rispetto al pensiero dominante che c'era alla loro epica alla loro epoca al loro periodo storico sulla questione diciamo della psiche no della medicina della 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 psiche della psicologia della psichiatria ok ma qui dobbiamo continuare anche sulle questioni dell'animo quell'ultima parte che vi porto banalmente possiamo dire che la luna e mercurio ecco qua luna e mercurio tra loro comunicano nello zodiaco e nel mondo quindi c'è una bella comunicazione luna mercurio quindi la connessione tra animo e mente è presente in jung questa configurazione predispone il nativo all'introspezione alla meditazione alla capacità di ascoltare se stessi e gli altri ma predispone anche ad una buona dialettica ad un buon ragionamento ad una buona intellettualità ad una capacità di apprendimento aggiungiamoci poi che la luna è mutua ricezione a venere quindi le qualità dell'animo sono aggraziate estetiche c'è un profondo bisogno di essere notati anche ed apprezzati la congiunzione che abbiamo di mercurio venere per le questioni della mente predispone anche alla ricerca del bene del bello tuttavia e qui viene il nodo non possiamo non considerare che mercurio venere sono in sesta casa sono quindi mercurio venere precursori dei mali dell'animo ovvero ad una sensibilità nei confronti dei malesseri e della fragilità però la condizione per i mali dell'animo deve esserci anche con la condizione in congiunta tra luna e mercurio in questo caso abbiamo una condizione particolare la luna mercurio comunicano tra loro però per le questioni dell'animo mercurio è nella sesta casa la sesta e la dodicesima casa sono per mercurio le posizioni più terribili perché possono inclinare a dei disturbi disturbi non mi piace come parola a delle fragilità intellettuali delle fragilità mentali a delle fragilità legate al pensiero qui c'è una questione su cui ragionare come la interpretiamo questa posizione jung aveva mali dell'animo cioè era sofferente di inquietudini di paranoie entrava spesso in crisi con se stesso aveva momenti di delirio la risposta è sì eppure la luna e mercurio comunicano quindi la comunicazione tra luna e mercurio dovrebbe escludere i mali dell'animo sbagliato non è vero qui abbiamo anche qui molti autori e qui sempre gli avorismi grazie ringrazio dio per l'esistenza degli avorismi ce lo ce lo dicono è vero che ci viene detto che l'assenza di comunicazione di aspetti tra luna mercurio predispone ai mali dell'animo ma molti aforismi ci dicono anche che se anche vi è una comunicazione tra luna mercurio ma mercurio è vessato dai malefici o si trova in sesta in dodicesima il nativo comunque dovrà confrontarsi con i mali dell'animo ovviamente avere la comunicazione tra luna mercurio vuol dire essere capace a risolvere i mali dell'animo è una predisposizione a risolverli ma non esclude la possibilità di averli quindi jung non è escluso dai mali dell'animo a livello di interpretazione può averli può possono emergere e come nella realtà che è stata in jung sono emersi molti deliri non è perché uno è psicologo ed è psichiatra è equilibrato jung ha avuto gravissimi momenti di depressione e di delirio mercurio in sesta casa unito anche a venere l'unione mercurio venere per i mali dell'animo può voler dire possessioni estatiche misticismo anche deliri mistici deliri di visione ok tuttavia i mali dell'animo in jung sono risolvibili anzi questi mali dell'animo possono far crescere il nativo dargli l'opportunità di crescita perché la luna comunica con mercurio perché giove è conspica quindi comunque i mali dell'animo non sono mali che annientano la personalità di jung al contrario la espandono permettono di farlo crescere inoltre ritengo e questo è una opinione mia che questo mercurio in sesta è stato compensato dalle opere di jung proprio perché jung è stato medico questa posizione di mercurio in sesta è compensata quindi per assurdo mercurio in sesta predispone ai mali dell'animo jung li ha avuti assolutamente ma li ha saputi affrontare e risolvere anzi sono stati il precursore per le sue scoperte per la sua crescita intellettuale anche per la sua divulgazione ma nello stesso tempo questi mali dell'animo mercurio in sesta è stata una materia un argomento delle opere di jung cioè lui ha curato i pazienti che soffrevano di schizofrenia di depressione di mali dell'animo in quello che l'astrologia chiama mali dell'animo lui ha curato i suoi pazienti dai mali dell'animo e probabilmente li ha potuti curare anche perché era consapevole e cosciente di questi mali perché li ha vissuti anche a livello somatico personale ne ha avuta ne ha avuta una esperienza diretta ecco perché molti autori dicono i pianeti in sesta fanno il buon medico perché in un certo senso avere un mercurio in sesta può predisporre alla medicina perché perché il nativo conoscerà i mali e li saprà gestire quindi saprà anche curarli quindi in questo caso un mercurio usiamo un termine moderno da astrologia attiva esorcizzato nella natività di jung un mercurio nell'esaltazione di giove e un giove nella triplicità di mercurio quindi vediamo che c'è una connessione molto interessante anche con spica stella di mercurio come vedete qui c'è una condizione particolare nell'animo anche perché l'animo da che cosa è retto secondo voi qui abbiamo una luna in toro un mercurio in cancro la luna in toro ci rimanda a venere mercurio in cancro ci rimanda a giove inoltre abbiamo giove in giove in io non mi viene improvvisamente il termine giove è in doriforia alla luna chiedo scusate non mi veniva il termine giove è in doriforia alla luna quindi giove ha significato sull'animo giove è in bilancia quindi è nell'esaltazione di venere e nella di saturno e nella casa di venere qual è la natura dell'animo di di jung la natura è probabilmente legata a più pianeti io ritengo che ha una natura venere giove legata a venere giove segnalo anche che il sole è sull'ammasso sull'ammasso m44 ovvero ammasso alveare o ammasso del presepe che è una costellazione che è un ammasso di luci nella costellazione del cancro ed è una luce che minaccia nella iatro matematica alla testa la vista agli occhi e quindi in senso diciamo più allegorico più simbolico che cosa può essere può essere significato questo ammasso di luce questa m queste queste stelle sulle sole di annebbiamento di smarrimento di paure ancestrali che in jung ci sono state unitamente a mercurio in sesta l'inquietudine c'è stata mercurio ircepzio marte l'inquietudine c'è stato il turbamento c'è stato comunque in associazione a una buona comunicazione luna mercurio luna venere il nativo riesce a risolvere i problemi e i mali dell'animo addirittura diventa medico addirittura in qualità di medico cura i mali dell'animo delle persone ecco che la discesa nelle tenebre sole che tramonta nel caso di jung questa discesa nelle tenebre del suo luminare a tutto il titolo per essere messo in analogia alla reale discesa nelle tenebre di jung nei suoi deliri nei suoi momenti di introspezioni di ricerca che lo hanno però anche portato a grandissime intuizioni a importanti scoperte il padre della psicanalisi ancora oggi insomma consultato e amato dagli psicanalisti e anche da molti astrologi moderni che si riferiscono molto alle intuizioni di jung e quindi vediamo che comunque la natività anche letta tradizionalmente con i metodi della tradizione ci posso ci ci danno questi metodi grandi processi interpretativi se vogliamo anche parlare di pianeti diciamo moderni sicuramente ma per me non serve perché avete visto quanta roba si può dire per solamente consultando i sette pianeti sicuramente io metto in rilievo la congiunzione applicativa della luna a plutone e la luna come significatore dell'animo se la vediamo appunto nell'aspetto di congiunzione a plutone ci può indicare una azione del nativo perché il pontano dice la luna con aspetti applicativi significa il movimento del nativo verso qualcosa cioè cosa verso cose in attivo andrà nelle sue azioni nei suoi moti di pensiero di anima di sensibilità sicuramente questa applicazione luna plutone indica che jung è portato a esplorare anche i mondi plutonici i mondi dell'oscurità delle profondità delle cose più inquietanti più abberranti della natura umana cosa che effettivamente ha fatto anche se vi faccio notare che plutone non è così significativo detto tra noi nella nascita di jung perché se dovessimo dare retta per esempio all'indicazione di pontano è il primo pianeta ad avere significato pianeta applica il primo pianeta che si applica alla luna qui qual è il primo pianeta che si applica alla luna cerchiamo di capirlo 16 gradi 16 gradi urano venere è a 17 mercurio è a 11 qui la prima applicazione è a urano è a urano infatti la prima applicazione è a urano quindi probabilmente ecco se vogliamo tenere in considerazione l'aspetto applicativo il primo aspetto diciamo applicativo è quello a urano ok quindi nell'ottica diciamo moderna qui abbiamo un aspetto di quadratura a urano proprio nella settima che non parla però di esplorazione dei mondi nascosti o oscuri come ci può parlare la con la congiunzione di plutone ci parla invece dello scontro con gli altri cioè la luna quadrato a urano ci parla di anacronismo antagonismo competizione che può portare a momenti anche di grande conflitto con gli altri e gli aspetti di quadratura luna urano significano anche ambizione orgoglio possessività e gelosia se invece vogliamo tenere in considerazione gli aspetti ai solamente ai cinque erranti il primo pianeta che la luna incontra come aspetto applicativo è a venere quindi c'è questo aspetto comunque di una venere poi in sessa di amore di ricerca una venere nella esaltazione di giove quindi è un jung è un artista anche quindi è una è un medico è un ricercatore che fa medicina orientata anche questa ricerca verso le arti di venere che sono legate anche le arti di venere non solo all'arte estetica o alla pittura venere però è legata anche ai farmaci è legata anche alle medicine alle droghe quindi ora non so se jung facesse uso di droghe o meno le sue e nelle sue esperienze o comunque ci può indicare anche la sua capacità di cura anche no nell'arte medica no la capacità terapeutica anche che non è detto che sia solamente una capacità mossa dal farmaco ma anche dalle dalle arti di venere che sono anche le arti delle delle immagini le arti della analisi dei dei sogni dell'analisi delle immagini analisi dei simboli analizzare le cose con creatività perché c'era molta creatività anche negli approcci diciamo medici no di jung nel modo che ha affrontato le allegorie le immagini la potenza delle immagini dell'arte anche e jung è sicuramente stato anche un autore un medico uno scienziato un ricercatore a cui dobbiamo il merito anche nell'epoca in cui è vissuta della rivisitazione cioè del riportare in superficie anche di molte allegorie esoteriche alcheniche anche astrologiche quindi ha affrontato anche questo tema poi io personalmente jung non lo considero un astrologo lo considero uno psicanalista che è un'altra roba bene detto questo comunque vi ho portato le mie impressioni su jung in un momento di confronto dove ho cercato anche di darvi alcune testimonianze su approcci di interpretazione astrologica io spero insomma che questo sia stato un approfondimento di vostro gradimento specialmente per coloro che amano jung e ci rivedremo con prossimi approfondimenti e con prossimi temi di nascita da analizzare un caro abbraccio da france a presto